Sulla setta attualità c'è una nuova inchiesta su sversamenti illeciti di rifiuti, al di là dell'inchiesta in sé, il segnale è che ci sono ancora sversamenti illeciti di rifiuti, ci sono esponenti della pubblica amministrazione pronti ad accordarsi con imprenditori? Vediamo, sono notizie che si ascoltano, si leggono un po' da ieri e da oggi, mi sembrano fatti gravissimi, e lo voglio dire da sindaco di questa città che ha eliminato i rifiuti da strada, subito, ha rotto il sistema tra affari, politica e camorra, ha eliminato le esternalizzazioni, ha rotto un sistema che aveva violentato l'immagine della nostra città, di cui ancora oggi ne paghiamo le conseguenze con i debiti di cui parlavamo prima del commissariamento dell'emergenza rifiuti e quindi ben vengano queste inchieste giornalistiche e ben vengano le indagini della magistratura. Quello che dicevamo prima, la prima domanda che mi avete fatto, qual era? Il sistema corruttivo è ancora particolarmente forte. Ecco, pensate quanto noi come città di Napoli stiamo dando fastidio nella rottura di un sistema criminale, perché mentre noi lo rompiamo ci stanno altri che cercano, come dire, da altre parti, in altre istituzioni, invece di continuare a perpetrare quel sistema affaristico, ospetterà la magistratura, poi verificare se è criminale, ma sicuramente a livello di trasparenza amministrativa e di rispetto del territorio e dei cittadini non c'è nulla. C'è anche il figlio del Presidente De Luca coinvolto nell'indagine? Lo so, me lo sono accorto. Dovrebbe fare un passo indietro da Salè? No, fatela loro questa domanda. Io posso dire che noi da un punto di vista morale ed etico siamo completamente diversi. Noi siamo un'altra pasta, siamo quelli che la questione morale la fanno con i fatti e non la fanno a chiacchiere. Un'ultima cosa, c'è stata una, insomma, la Procura ha mandato una perquisizione alla sede di Fanpage, che è quella che ha fatto l'inchiesta. Ci sono anche delle ipotesi di indagine nei confronti di due giornalisti. Non posso, ripeto, commentare le indagini, posso, come dire, da cittadino esprimere apprezzamento che ci siano giornalisti che facciano ancora inchieste. Quindi io sono un grandissimo sostenitore dell'articolo 21 e un grandissimo sostenitore dell'autonomia, dell'indipendenza e del pluralismo dell'informazione. Stringerò sempre la mano, guardandogli negli occhi, a tutti i giornalisti che non sono, come dire, il megafono del potere, ma che fanno inchieste serie. Poi la magistratura aspetta di fare le sue indagini per verificare se ci sono reati. Quindi soprattutto a me interessa che vengono perseguiti i reati, che vengono fatti a danno dei cittadini e in un settore così delicato come quello dei rifiuti. Mi interessa meno le indagini che chiaramente vengono fatte nei confronti dei giornalisti, sinceramente. Anzi, mi auguro che nel nostro Paese si possa sempre applaudire all'autonomia e indipendenza della magistratura, all'autonomia e l'indipendenza dell'informazione. Grazie.